seconda parte per quanto riguarda i fondotinta non vi preoccupate perché ci sarà anche la terza parte per quanto riguarda i fondotinta vi ripeto non mi va che qualcuno scrive a quanti fondoti quanti fondotinta i soldi eccetera eccetera perché io non vengo a casa vostra a chiedervi dei soldi quindi ognuno fa con i propri soldi quello che vuole alcuni si comprano oggetti di valore nel senso oro diamante eccetera eccetera alcuni preferisce farsi festini eccetera eccetera e alcuni preferiscono come me comprarsi il make up ognuno ha la propria passione e quindi credo che ognuno debba essere libero di utilizzare e fare della propria vita quel che vuole senza intaccare ovviamente gli altri ai miei figli il mangiare un tetto un posto non gli manca quindi capite bene che anche se io ho uno sfizio in più lo posso utilizzare quindi andiamo avanti questi sono due prodotti che si utilizzano per far diventare più chiaro un fondotinta o far diventare più scuro un fondotinta questo ovviamente li tengo li ho utilizzati pochissimo se mi servono ce l'ho di scorta quindi li utilizzo li mettiamo di lato questi sono i on my love di clio e ho cannato la colorazione loro mi avevano consigliato una colorazione che sicuramente sarebbe stata giusta per me cercherò di utilizzarli perché mi sono trovata bene quando l'ho utilizzati per la prima volta è stato proprio l'anno scorso nel periodo di ottobre cercherò di utilizzarlo di nuovo vedo se mi piace o meno in caso li trovate su vintage ve lo dico subito perché purtroppo le colorazioni sono sbagliate però loro quello che devo dire loro mi avevano consigliato le colorazioni giuste il mio preferito in assoluto amato e riamato comprato per la seconda volta e skin realist di nabla perché li ho comprati la seconda volta perché mi sono piaciuti tantissimo credendo di non avere prodotti proprio simili nella mia makeup collection ho sbagliato però ormai ce l'ho e li voglio utilizzare mi sono piaciuti tantissimo li ho presi scondatissimi proprio a prezzi stracciati e quindi per questo motivo li ho voluti riprendere quindi sono la colorazione 1 e 2 quindi fantastici come ad esempio questa è una scoperta dell'estate proprio che l'ho utilizzati sono questi qua di l'oreal che tiktok vanta all'infinito come dupe di questi devo dire che si ci avvicinano tantissimo mi sono trovata benissimo io ho la colorazione 2.3 e 0 5.2 la colorazione chiara e leggermente più scura se sono mischio tutte e due come faccio con quelli nabla se invece utilizzo uno utilizzo l'altro mi sono trovata benissimo e posso dirvi che li metto sempre vicini ai suoi fratellini non gemellini anastasia beverly hills foundation questo nella colorazione 140 n lo ricordo a memoria perché quando fu l'ho preso perché era scontato e perché potevo usufruire di un super sconto perché la luce è diversa ecco ho preso questo perché era proprio con un super sconto e quindi l'ho voluto prendere così lo utilizzerò quando avrò la possibilità quindi per adesso rimane chiuso tanto chi lo tocca poi qui abbiamo il fondotinta di wicon questo l'ho utilizzato ma come il primer non mi ricordo sinceramente se mi è piaciuto o meno quindi questo lo metterò di lato per utilizzare poi vi farò sapere il mio preferito sapete tutti che l'ho comprato per la seconda o terza volta utilizzato benissimo spugno pennello quello che volete numero uno il fresh ivory la mia colorazione essence basso costo ottimo ottimo prodotto un prodotto sigillato non utilizzato è il forever di or di or ovviamente il forever ciao stefania stai capendo qualcosa di quello che dici no nella colorazione 1,5 n questo fondotinta l'ho sentito decantare da tante persone mia sorella è pazza di or quindi acquista sempre questo tipo di marca io sinceramente volevo provarlo perché non avevo mai provato questo tipo di prodotto e quindi l'ho acquistato è nuovo sigillato non è stato mai aperto come non è stato mai aperto questo qui di kiko il foundation instant must rise è un fondotinta fluido perfezionante idratante per tutta la giornata voglio provarlo è sigillato non l'ho mai utilizzato e quindi lo proverò in prossimo futuro se poi mi date altre facce io cercherò di utilizzarlo di più questo l'ho utilizzato quest'estate mi è piaciuto sì devo dire di sì la stessa identica cosa ho la colorazione 0,5 e 10 in base alla colorazione della mia pelle perché poi lo provavo sulla guancia in base alla colorazione della mia pelle se mi piaceva di più un colore o l'altro o certe volte li miscelavo tutti e due però devo dire che mi sono trovata bene con questo e con quello di catrice che forse è messo nella gesta dove ci sono i prodotti che sto utilizzando in questo momento comunque devo dire che sono a base di acqua ma dicono che siano sempre parliamo sempre dei dupe di skin realist ma mi sono piaciute devo dire che mi sono piaciute tantissimo mamma mia quanti fondotinta un nì posso dire un nì ci sono rimasta male sì perché avevo tante aspettative su questo prodotto ma allora è a base d'acqua deve essere shakerato e credo di utilizzarlo con le mani devo utilizzarlo per forza con le mani adesso è uscito proprio una caterba di prodotto dicono che sia uniformante per tutti i tipi di pelle questo è il colore ora voi è abbastanza liquido mi piace proprio per questo perché abbastanza liquido però che dicono che sia un perfezionante di tutti gli incarnati sinceramente no perché non possiamo dire cavolate perché vedete già sto diventando gialla in questo preciso proprio punto aspettate che tolgo questa parte che è leggermente più liquida e lascio questa poi vi faccio vedere che divento leggermente più gialla questo ne lo metto di lato perché io ne avevo comprato un altro un backup che è messo in qualche punto qui della postazione lontana ovviamente dal reparto dove sono i fondotinta perché se non mi piace lo vendo ovviamente e questo lo metterò nei forze poi andiamo con astra qui abbiamo my foundation quindi un fondotinta alloe vera adatto a tutti i tipi di pelle ed è questo questo non mi ricordo perché ce n'era uno che mi piaceva però non so se questo e questo è abbastanza chiaro sì questo è leggermente più chiaro più liquido anche quindi tengo questo qui e regalo o vendo quest'altro che è il my foundation fondotinta idratante e questo è nella colorazione 02 e capite bene che è molto ma molto scuro non so se posso anche diventare mai di questo colore ma ovviamente lo regalo aspettate che mi tolgo qualche fondotinta così riesco anche a farvi qualche swatch quello lo lascio perché voglio farvi vedere che ossida leggermente ok poi questo abbiamo detto che lo tengo poi abbiamo questi fondotinta che sono anche delle cc cream questa è una cc cream di kiko questa l'ho acquistata con gli sconti tutti parlano bene di questa cc cream io sinceramente non l'ho utilizzata quindi mi riservo di utilizzarla e la tengo e poi abbiamo questo che è un daily protection bb cream e sinceramente non mi ricordo com'è se mi trovo bene con la mia tipologia di pelle questa se non mi sbaglio era la preferita di eleonora manni lei diceva che era ottima come bb cream la tengo la utilizzo per provare com'è se non mi piace poi la regalo poi abbiamo queste due che non mi ricordo proprio nemmeno come sono forse sono scure sono un bel po' scure questa è quella di essence la my skin e questa la regalo e poi c'è questa qui di Yves Rocher che mi piaceva tantissimo vedevo tantissime persone che la utilizzavano e io sinceramente la volevo utilizzare credo che la colorazione possa anche andare vediamo sì ed è abbastanza liquidina come bella morbida quindi questa la tengo e alcuni prodotti ovviamente li metterò per quanto riguarda il progetto smaltimento prodotti che farò a breve datemi un po' di tempo perché ho avuto delle cose da fare quindi vado a prendere gli altri prodotti allora oddio qui sono tutti fondotinta quasi tutti sigillati anche pieni di polvere abbiamo questo di By Terry Hyaluronic ovviamente tengo le confezioni ve le faccio vedere quelle scatolate sono tutte sigillate quindi li utilizzerò questa è sempre a base d'acqua non vi spaventate se sono divise ma essendo non aperte li potete utilizzare benissimo quindi questo è sigillato e lo utilizzerò in futuro come il Touch Eclat di Saint Laurent è sempre un fondotinta confezionate sempre a base d'acqua perché sono prodotti per quanto riguarda pelle mista ma tendenzialmente a secco quindi anche questa è sigillato ve li faccio vedere tutti per essere onesta con voi poi l'altro che vi faccio vedere è di Lancome il Skin Feel Good ed è questo vedete confezionato questi c'è stata una promozione quindi l'ho voluti prendere Nars nella colorazione Yukon Light 2.5 ed è questo sempre adatta a una pelle mista al secco vedete sono confezionati questi ottimi questo è di Kiko Olide Fabol questo l'avevo provato direttamente al negozio la colorazione era giusta però vi ripeto non l'ho aperto proprio perché ho tanti fondotinta da utilizzare quindi mi sembrava inutile farvi il video solo per cioè aprire questo prodotto solo per farvi il video capite onestamente i soldi spesi posso anche risparmiarmi qualche cosa Naked Foundation questo famosissimo questo fondotinta è un famosissimo per quanto riguarda la Naked si trovano tutti benissimo con questo fondotinta quindi scontato l'ho voluto prendere anche io spero che la colorazione sia giusta altro fondotinta confezionato questo qui di Fenty Beauty ve lo faccio vedere per essere corretto ovviamente questo qui confezionato vedete è nella colorazione 170 questo l'ho preso non mi sbaglio con i prezzi sexy poi andiamo avanti sempre il Saint Laurent Touch Eclat un ottimo fondotinta questo è il preferito di Giulia Cova quindi non potevo non prenderlo è nella colorazione Ivory B20 ce n'era un altro se non mi sbaglio fondotinta che amava Giulia Cova si è questo qui questo è il suo preferito della Estée Lauder è 2.1 2N1 si 2N1 si questo qui ed è questo il fondotinta che proprio lei ama in assoluto e che consiglia anche a una pelle agè e quindi l'ho voluto prendere sempre con gli sconti utilizzate gli sconti se dovete prendere dei prodotti che hanno un costo abbastanza elevato poi ho preso questo di Lancome lo 03 Beige Diafone sembra scuro ma non è sembra darti l'allegria questo è un fondotinta ottimo ci sono delle recensioni sul mio canale inutile perdere tempo nel descrivervelo adesso questo è il Makeup Forever Rebot adesso ha un nuovo packaging ma io l'ho preso scontato con il vecchio packaging che se ne frega del packaging a me interessa il prodotto ed è questo quindi l'ho preso spero di trovarmi anche bene perché dicono che sia un ottimo fondotinta non l'ho provato ma vi farò sapere poi Shell Ul Tiburi il Light Wonder tutti veramente tutti 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 dicono che è fantastico quindi che fa non lo prendi e quindi l'ho voluto prendere ovviamente anche questo sigillato nella sua confezione io vi consiglio di lasciarli così così capite anche che sono sigillati intatti come vi ho detto poco fa quello della Beauty Blender è uguale al primer l'ho lasciato confezionato così so di poterlo utilizzare come ho lasciato confezionato questo di Julia's Place perché lo volevo utilizzare ma questo l'ho sbocciato ed è leggermente coprente ma che dire coprente quindi quando lo utilizzerò sicuramente metterò una base olio perché è molto denso diciamo non è proprio l'effetto matt ma è leggermente coprente quindi questo lo utilizzerò c'è un tovagliolo? no questo lo utilizzerò assieme a un olio o una crema d'olio per quanto riguarda vedete è molto denso questo è diventato vedete come è diventato marroncino pensa pensa sul viso quindi devo provarlo quindi questo lo tengo perché devo fare il video proprio con i prodotti di Julia's Place e se non mi sbaglio di questo ne avevo acquistati due e li metterò il suo gemello ovviamente lo metterò su Vinted quindi se vi interessa questa colorazione che ve la faccio vedere si chiama Bali 720 poi andiamo con Mac questo è il light plus questo non l'ho ancora utilizzato dicono che sia un fondotinta alcuni lo utilizzano come cipria io lo metto di lato se mi viene lo utilizzo se no lo regalo non è vecchissimo e quindi lo metto di lato e poi ho questi quattro prodotti no anche questo questo è sigillato di Revolution tutti ne parlano benissimo io non ho avuto nemmeno l'occasione nemmeno di sedermi qui nella mia scrivania e fare un video e provare questo prodotto quindi ancora è sigillato perché non so nemmeno com'è ma siccome mi sono messa curiosità quando hanno parlato di questo prodotto ve lo dico con tanta sincerità lo voglio prima provare e poi se non mi piace regalare poi MAC questo è il face and body io mi trovo benissimo con il face and body di MAC questo mi è stato consigliato sempre come le goccine diciamo di essence da un makeup artist gli avevo chiesto come posso modificare qualche fondotinta e lui mi ha consigliato questo qui di MAC perché cercherà di non cambiarti la tipologia di fondotinta nel senso che se è un fondotinta abbastanza denso come questo non cambierà l'effetto se metterai diciamo questo altro fondotinta quindi mi ha specificato questa cosa cambierà soltanto proprio il colore del fondotinta ma non la oddio come si dice non me lo ricordo comunque mi ha detto questo ti aiuterà tantissimo e quindi l'ho voluto prendere proprio per questo motivo l'altro che ho preso che ho utilizzato tantissimo infatti è qua proprio qua dove c'è la scritta e questo è il face and body di MAC lo studio no è il face and body scusate questo è il face and body di MAC mi sono trovata benissimo con questo fondotinta io lo adoro è di una leggerezza unica simile al skin realist di nabla mi trovo benissimo e quindi lo tengo perché lo adoro come adoro in assoluto per l'inverno questo di astral universal foundation nella colorazione 03 n mi piace tantissimo la colorazione è azzeccata io in inverno utilizzo solo ed esclusivamente questo fondotinta ma adesso capite bene che ho una caterba di fondotinta da provare quindi finirò e non lo acquisterò più e quindi lo proverò a finire questo invece questa è una BB cream della skin food e la utilizzavo un po' di tempo fa devo dire che mi trovavo bene ero leggermente più abbronzata come si vede leggera proprio leggera leggera come abbronzatura questa è una BB cream molto molto leggera ve la consiglio se qualcuno la deve utilizzare e vi consiglio anche se non volete un effetto troppo troppo pesante questa BB cream perché oltre a essere leggera uniferma tantissimo l'incarnato la profumazione è ottima e io mi sono trovata benissimo con questo però capite bene che già l'ho provata non mi ricordo se avevo altre confezioni però mi ricordo che avevo quelle piccoline sapete dove ce ne sono in una confezione ce ne sono quattro ebbene io l'ho utilizzata tutte quindi questa cercherò di regalarla allora questo è tutto per quanto riguarda i fondotinta vi ripeto se avete tanti fondotinta come li ho io oppure se vi piacciono così tanto i fondotinta cercate di lasciarli confezionati se non l'avete mai aperti così da capire qual è il fondotinta che è stato utilizzando e quali meno io adesso metterò alcuni fondotinta come farò con i correttori come farò con le cipre come farò con tutti gli altri prodotti in un in un recipiente che poi possa essere anche tipo questo vassoio girevole dove metterò i vari prodotti che voglio utilizzare e voglio cercare di smaltire così ho tutto qui a portata di mano e cercherò di smaltire più prodotti possibili la stessa cosa non mi vedete acquistare le ultime uscite di Kiko come facevo prima perché ho tantissimi prodotti molti prodotti sono andati a male quindi li devi buttare e sinceramente dopo aver speso dei soldi non mi piace il fatto di buttarli capite bene che la mia vita sociale è limitata quindi automaticamente non ho tutte queste possibilità di uscire fare e dire quindi automaticamente cercherò di smaltire quello che ho se mi piacerà un altro fondotinta lo acquisterò ma non cercherò di aprirlo se prima non ho smaltito un bel po' di fondotinta già aperti non parlo di quelli chiusi già aperti io alcuni fondotinta come vedete molto particolari li ho acquistati proprio perché prima di tutto in base al prezzo che ho avuto quindi lo sconto bello sostanzioso e poi perché sono prodotti che io di solito non posso acquistare senza un codice sconto senza un a metà costo diciamo così questo è tutto per quanto riguarda i fondotinta a metà costo e a metà costo a metà costo Grazie per la visione!